ho trovato questo canale spettacolare questo canale spiega in tutti i minimi dettagli il funzionamento l'utilizzo l'installazione i problemi e le soluzioni relativi a quello che chiamiamo impropriamente cinebasto perché non è una copia del webasto e john che ringrazio lo spiega se capite l'inglese questi video sono veramente fantastici perché spiegano tutto quello che c'è da sapere su questa macchina e ho letto di diversi errori che io stesso ho fatto quindi vi esorto a non provare questo mio setup che adesso leggermente modificato e ne andrò a parlare adesso in questo breve video sono degli aggiustamenti che ho iniziato a fare ce ne sono altri che dovrò fare il primo che forse non si nota ma è la posizione del tubo di scarico che deve andare verso il basso perché mi sono accorto che qui si forma della condensa e questo tubo che aveva una pendenza così una specie di gobba mi si è riempito di acqua e quindi a un certo punto io l'ho toccato e mi ha pisciato l'acqua in testa ed è stato molto divertente io penso che questo sia dovuto al fatto che l'aspirazione è qui altra modifica di cui adesso parlerò più o meno al volo e questo è un ambiente molto umido quindi lui prende aria umida la usa per la combustione ma questa umidità da qualche parte deve finire e quindi esce con il gas di scarico qui è molto caldo il tubo qui sotto siamo a 200 250 gradi sale 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 fino a qui posso non posso ancora toccarlo perché mi scotto letteralmente mi scotto le mani qui diventa un po meno caldo e qui diventa insomma tiepido e qui l'acqua si condensa perché questo ambiente quando diventa freddo insomma qui si condensa l'acqua non piscia fuori ma rimane lì e quindi ho dovuto alzare il tubo e creare uno slope una pendenza che si vede bene da qui ho creato questa pendenza sperando che sia abbastanza per buttare l'acqua fuori piano piano a goccioline e non farla rimanere lì condensata perché questo è un problema questo vuol dire che una canalizzazione lunga dei tubi di scarico secondo me non è del tutto possibile perché il tubo di scarico più corto è meglio è ora io qua non so come fare un tubo di scarico corto perché le mie pareti sono spesse quasi un metro c'è un'altra parte di là questa è una casa molto vecchia dovrei bucare la porta ma poi non posso aprirla dovrei staccare lo scarico ogni volta e poi dove la mettono unità la metto qui davanti al lavandino c'è un macello quindi magari sistemerò meglio questa canalizzazione non so come poi scoperta che l'unità è molto rumorosa ma se la aprite come ho fatto per risolvere un altro problema e lasciate le parti smontate diventa molto più silenziosa come vi dicevo ho modificato un attimo il filtro dell'aria che non è un fi sia un filtro non è un silenziatore ma è un filtro ho aperto di più queste fessure che prima erano così erano piccoline se non si nasconde da qualche parte fa molto meno rumore e poi cos'altro dire ho allungato il cavo in questo già lo sapete forse cioè non lo vedrete questo lo vedrete nel video e va bene insomma adesso insomma sta funzionando ha fatto un po di fumo perché ho fatto ho avuto dei problemi con il priming della pompa però non so se qua si vede ancora ma qui c'è carburante ma qui ce n'è una parte dove il carburante non c'è ed è vuoto c'è un ci sono quasi 10 cm se non di più di aria e non riesco a toglierla perché perché la pompa è qua circa questa altezza il serbatoio è qui e l'unità è sotto in realtà per funzionare bene ci vorrebbe il serbatoio in basso la pompa inclinata che spinge il gasolio sotto non da sopra che poi fai la curva e risale perché infatti ho smontato serbatoio unità eccetera l'ho messo lì l'ho inclinato e la bolla d'aria è piano piano sparita bene adesso che dire vediamo quel resto dei pezzi che ho girato un po al volo sarà un video un po così prima di iniziare due parole sul consumo il consumo di carburante di quello che chiamiamo cinebasto che in realtà non è la copia di un webasto ma è la copia di un riscaldatore a gasolio tedesco degli anni 30 chiamato ebersparker non so come cacchio si pronuncia questa parola ma è questo il l'originale ebersparker boh non lo so come si pronuncia è un po difficile io non so il tedesco e non lo voglio sapere ora la pompa ha una portata fissa è una pompa impulso ha un pistoncino che butta fuori ogni a ogni impulso 0,02 millilitri di gasolio o di combustibile quindi per ogni impulso abbiamo 0,02 millilitri se io imposto la mia pompa a 1,7 impulsi al secondo ottengo un consumo di 0,034 millilitri per ogni secondo quindi moltiplicato per 60 secondi e per 60 minuti ottengo 122,4 millilitri per un'ora di utilizzo alla minima potenza che io posso impostare sulla mia stufa tutto il resto dei calcoli lo fate nello stesso modo se le impostate a due impulsi qui avrete 40 e quindi il consumo sarà 200 millilitri ora e così via se le impostate a 5 hertz 5 impulsi al secondo avete 0,1 e qui avrete adesso non me lo ricordo dovete fare i calcoli perché io senza calcolatrice sono un cane ed ecco il consumo della pompa e il consumo del gasolio è facile da calcolare senza stare lì a misurare quanto si abbassa il livello eccetera eccetera prima modifica che voglio fare questi cosi non si aprono bisogna spaccarsi le unghie per poterli aprire quindi ora prenderò questa linguetta e la piegherò verso l'esterno tanto la stufa si sta spegnendo perché poi devo fare un'altra modifica ecco qua ecco fatto modifica molto semplice ora posso fare così e posso aprire senza spaccarmi le unghie a usare un cacciavite si prende con una pinza e si piega se voglio metterlo così si piega verso fuori in modo che ecco fatto lo stesso per questo qua prendo e piego prima modifica fatta intanto guardate c'è l'etichetta qua non l'avevo notata altre modifiche che voglio fare voglio allungare questo cavo perché questo praticamente non è un semplice display questo è anche il termostato questo legge la temperatura ambiente quindi se io lo metto qua il calore che sale mi fa leggere una temperatura che non è quella dell'ambiente perché in questo momento mi legge 27 gradi col cazzo che ci sono 27 gradi ce ne sono 18 19 quindi devo allontanarlo lo metto magari sul muro su una parete da qualche parte quindi devo allungare questo cavetto vediamo se ci riesco dopodiché voglio isolare questa pompa voglio renderla più silenziosa quindi vediamo se riesco a metterci qualcosa attorno un po di spugno del materiale fonoassorbente di qualche tipo perché lo spazio c'è se non inciampassi nel maledetto treppiede che sto usando magari voi vedreste anche meglio questa è l'unità è leggermente tiepida e questi sono i suoi cavi il cavo è proprio messo così ad minchiam con una fascetta molto interessante va bene vediamo cosa riesco a fare è un peccato che abbiano scelto questo connettore con una forma del cazzo veramente del cazzo perché io sono pieno di questi connettori per auto a 2 a 3 ping sto sinceramente pensando di sostituirlo cambiare il connettore in modo da avere diversi ricambi perché ne ho una certa quantità come potete vedere e quindi potrei cambiare il connettore qui cambiare il connettore sull'unità montare un connettore decente e non un connettore del cazzo però poi dovrei o costruire una prolunga in modo che la mia modifica sia reversibile cosa che in effetti con questi potrei fare non lo so adesso ci penso ho trovato questo cavo che è un connettore multipolare sarà sei poli credo per citofoni o cose del genere per cavi di comunicazione seriali quindi ho preso gli stessi colori che trovo qui rosso nero e blu e ho deciso che userò i ping di questi connettori senza usare i connettori per collegarmi qui e sull'unità in modo da non toccare il cablaggio originale crimpato e saldato 300 bestemmie dopo sono riuscito a fare questo accrocchio identificando i colori rosso nero e blu e io penso che vediamo se riesco a vedere i colori se il blu e questo sotto il rosso e sopra il nero e accanto e quindi abbiamo rosso nero accanto e il blu sotto e il blu e sotto bene ora devo fare l'altro lato poteva essere facile ovviamente no perché perché cosa hanno fatto merda con due m io c'ho il mio display qua che si collega con il connettore così rosso nero e blu e qui che cosa mi trovo invece bianco nero e marrone ma andate a fare ho creato ho creato un connettore di colla a caldo in modo che i pin rimangono in quella posizione ovviamente mi sono dimenticato di rificcarlo qui nel frattempo ho riempito questa parte di spugno forse questo è inutile forse no però adesso devo ripassare il cavo verso verso l'esterno dell'unità bene la prolunga funziona perché legge tutti i parametri perfetto perfetto funziona funziona unità chiusa con difficoltà e bestemmie perché la spugna crea spessore questo è l'appendi termostato il termostato l'ho appeso lì per adesso quindi che dire accendiamo la stufa on e la stufa si accende vediamo come va vediamo cosa ci dice vediamo se ci dà degli errori ho notato che se gli do un po' più di tensione la stufa si avvia prima quindi io metto il caricabatteria che è in parallelo che tira fuori un bel sostegno ho rifatto i collegamenti qui sono ottimi 12,58 mi segna sta assorbendo corrente direi sta scaldando le candelette ora vediamo che rumore fa la pompetta con la spugna attorno fa rumore la parte metallica del case che vibra tutto bisognerebbe proprio isolarla questa pompa metterla da un'altra parte comunque la stufa si è avviata qui c'è questo schifo che si potrebbe chiudere con un adesivo con scritto vaffanculo e direi che va bene comincia a buttare fuori aria l'esperimento continua per adesso ho lasciato tutto come era ma questo tubo adesso diventerà un tubetto serio verso l'uscita forse qui forse di là forse chissà gli esperimenti continuano perché questo setup non è per niente ideale anzi ha un sacco di problemi che ora vi enuncio l'aria calda non è wow non è assolutamente un problema esce come deve uscire e fa il suo dovere ma i fumi di scarico qui salgono e non è bene perché a volte si crea della condensa questa potrebbe rimanere ora qui sicuro non rimane perché il tubo questo è letteralmente rovente però a un certo punto qui si raffredda si raffredda e si crea condensa nel tubo infatti io mi sono trovato delle gocce d'acqua qui perché ero qua che mi sistemavo il lavandino detto pila in siciliano si chiama pila la pila e mi è cascata una goccia in testa allora mi si è detto ma da dove cazzo viene quest'acqua e veniva da qui allora ho aperto qua ed è piovuta acqua ovviamente in terra quindi ho tirato un bestemmione e ho cercato di rendere questo tubo il più dritto e accaduta possibile però sicuramente non ci sono riuscito però poi questo tubo si riempie un poco di condensa e mi crea dell'acqua questo non è bene il tubo deve essere montato in discesa lo scarico deve andare in discesa ora qua è un po' complicato ma vedrò di trovare una soluzione questo è un primo problema il secondo è che la pompa c'è sempre un po' d'aria inoltre devo cambiare questa linea di alimentazione devo montarla rigida perché così questo tubo evita di espandersi è una cosa di cui magari farò un video più avanti sarebbe meglio usare linee di alimentazione rigide in nylon perché la pompa così funziona più meglio ho provato a riempirla ma riempendola a mano da qui mi finisce un sacco di gasolio nella camera a motore spento e infatti quando l'ho acceso fuori ha fatto un sacco di fumo no, un sacco no però ha fatto un po' di fumo il che non è bello perché vuol dire che mi sporca la camera di combustione quindi dovrò trovare una soluzione anche per questa linea che va sostituita e per il priming della pompa come si suol dire va riempita in qualche modo non so come farò ma in qualche modo ci proverò non so se avete notato che senza il coperchio l'unità mi sembra molto più silenziosa la pompa sta facendo meno rumore perché? perché probabilmente questi tubi non toccano la parte metallica quindi lei non vibra e lei fa meno rumore altra modifica che ho fatto per l'ingresso aria c'è un filtro non è un silenziatore ma è un filtro per evitare che ci finiscano gli insetti dentro e l'ho aperta ho aperto degli slot perché era chiuso qui era chiuso era fatto così aveva solo questi buchini anche qua e qua e allora ho tagliato via la plastica l'ho pulito per bene prima di rimontarlo e così succhia più aria legato qui fa molto più rumore penzoloni così magari nascosto fa molto meno rumore quindi così più rumore meno rumore questo è un altro questo si può diciamo che ne so nascondere sotto al tavolo da affanculo però quello che voglio fare sarà questo sarà smontare l'unità da questo suo contenitore metallico che è scomodo sinceramente magari togliere questi rivetti in modo da eliminare questa parte mettere il serbatoio esterno montare un altro serbatoio vedremo ma montare la pompa distanziata non tanto perché queste linee non possono essere molto lunghe così la posso silenziare ancora di più e che ne so magari l'unità potrebbe finire qua dietro in qualche modo o potrei ritagliare un buco qua e metterla nel mobile chiamiamo mobile questa stronzata fatta con legname di recupero però sicuramente devo togliere da qui e poi dovrò inventarmi uno scarico nuovo uno scarico diverso potrei usare un tubo leggermente più grande usare questo foro oppure potrei allargare questo foro chiudere questo e quindi avere una discesa però sempre basso è sempre basso eh non lo so non lo so il problema della condensa che mi si forma qui può essere un fastidio la condensa secondo me si forma perché io da qua aspiro aria da questo ambiente che è ancora abbastanza umido quest'aria umida finisce in camera di combustione viene bruciata però l'umidità sotto forma di condensa mi si riforma lì perché questo tubo si raffredda forse dovrei coibentarlo ma non lo so vedremo per ora il problema principale è questa mancanza di carburante qui è tutto vuoto il tubo è vuoto fino a qua sotto vedete e c'è tutto questo pezzo che è vuoto e non riesco a riempirlo non so come devo fare vedremo ho abbassato la tannica e quindi la situazione aria è migliorata c'è solo questa bolla che però adesso sta andando spero in camera di combustione e quindi è probabile che con la linea bassa questa possa sparire vediamo ora qua non si vede ma ho inclinato ho decisamente inclinato il tubo adesso è dritto ed esce fuori e fuori gocciola un po' e quindi va bene adesso la condensa dovrebbe scendere quindi un po' meglio ho provato a fare il priming della pompa poi l'ho rimontata tutta com'era ma purtroppo c'è sempre qualche bolla d'aria molto grossa qui circa e quindi questa cosa andrà andrà risolta in qualche modo sarà da rimontare in modo completamente differente senza questo case perché questo case fa rumore fa fare rumore alla pompa e quindi è un problema e qui in esterno ho abbassato ho tirato in basso l'uscita del tubo in modo da fare sgocciolare meglio la condensa e infatti qui a terra trovo le gocce di acqua e quindi vuol dire che insomma la pendenza c'è e va bene ecco da qua si vede meglio che ho semplicemente tirato in basso l'uscita del tubo di alluminio grazie a tutti